Elena Sack ne fa un'altra delle sue, per Elena non ci sono mezze misure, lei vive ancora nei secoli bui della storia umana, ovvero nel Medioevo. Molte sue affermazioni ricordano sempre che l'uomo è uomo e la donna è donna, ovvero il primo è superiore all'altra, e lo dice da donna che forse è la cosa più sconcertante. Ci sono diversi passaggi che fanno capire questo suo concetto. Uno tra i tanti è quello dove ha detto che è normale che l'uomo tradisca la propria donna. Certo, se capitasse a lei di essere tradita, non pensa che le farebbe piacere, ma ci può stare. Non sono parole testuali, ma ci siamo andati davvero vicini. E questo concetto lo ha espresso quando ha affermato che la donna deve perdonare l'uomo per amore dei loro figli. Ora, nel post di ieri, ha preso la notizia in cui Elenuar Ferruzzi, famosa influencer, celebre per le sue uscite eccessive, critica in malo modo Antonella Clerici. La padrona di casa del Mezzogiorno di Rai 1 ha pubblicato una sua foto, dove c'è il suo viso preso in primo piano, privo di qualsiasi filtro, né trucco né ritocco digitale. La foto, che potete trovare sul suo profilo Instagram, il cui link lo trovate nell'infobox, mostra un viso di una donna di 59 anni, fiera e sicura, noi le diamo 10 elode. Ma ovviamente, la Ferruzzi poteva far finta di niente e rimanere nell'anonimato? Ovvio che no, e quindi, con il suo solito modo di fare che la resa celebre, ed aggiungiamo, è solo per questo che è celebre, perché poi non conosciamo altre sue capacità. Ha scritto sotto la foto solo due parole, un uomo. Vi riportiamo il link della notizia presente su today.it nell'infobox. E la Elena Sack come commenta tutto ciò? Con «sembri un uomo», disse l'uomo che amava fare cosplay interpretando un essere mitologico, metà peripatetica e metà canotto. Ora, la Ferruzzi è una donna trans che ha completato la transizione, ed è riconosciuta come donna dallo Stato italiano, secondo da quanto lei stessa ha affermato e sempre riportato nell'articolo di today.it, quindi se lo Stato italiano riconosce la Ferruzzi come donna, chi sei tu Elena per dire che non lo è? Possiamo, al massimo dire, che è una donna trans, ma non che sia un uomo. Detto ciò, noi siamo in completo disaccordo anche con la Ferruzzi, e che spesso potrebbe evitare di fare certe uscite. Il problema è che lei sa fare solo questo. Non ci risulta che abbia un altro lavoro, e non ci risulta che nel mondo dello spettacolo sia famosa per le sue doti di recitazione, canto, ballo o come presentatrice. E nel GF, a nostro parere, ha fatto anche una grande brutta figura, questo lo diciamo perché non passi il pensiero che noi l'amiamo. Lei è molto lontana dai nostri gusti, perché il suo volere estremizzare ogni cosa, partendo dal suo corpo che ai nostri occhi è troppo sgraziato, e lo diciamo non per offenderla, e non è neppure body shaming, visto quello che vediamo è frutto di operazioni chirurgiche studiate a tavolino, quindi non è la natura che l'ha fatta così, e non sono neppure problemi di salute. È stancante, noioso e troppo volgare. Ecco Elena, invece di rimarcare che è un uomo travestito, cosa errata. Magari potevi criticarla solo sulle labbra. Potevi addirittura parlare delle sue unghie. Ed invece no, hai dovuto rimarcare che è un uomo. Ecco Elena, invece di rimarcare che è un uomo travestito, cosa errata. Magari potevi criticarla solo sulle labbra. Potevi addirittura parlare delle sue unghie. Ed invece no, hai dovuto rimarcare che è un uomo. Ed infatti, Patty ha scritto prontamente frasi del tipo Elena fa della transfobia, e che lo fa spesso. Beh, per quanto non siamo fans di Patty, iniziamo a credere anche noi che Elena abbia qualche problema con le persone che non si sentono uomini o donne, eppure è stata amica di Patty. Forse, la sua intenzione era quella di riportarla sulla giusta via? Ovvero, far sparire Patty e far tornare Patrick. Chissà, ma a questo punto, a noi ci viene questo dubbio.